Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo nuovo incontro di Cartmoo Forum Plus. Io sono Rosy Spigniello e con me a moderare questo incontro ci sarà Riccardo Prosperi. Ciao Riccardo. Ciao Rosy, ciao a tutti. Sono zionato per questo incontro. Non mi dobbiamo iniziare. Direi di sì, l'emozione è lecita. Allora, purtroppo ormai siamo al terzo ultimo incontro di Cartmoo Forum Plus. In questa edizione abbiamo affrontato tanti temi. Il tema che sarà, diciamo, da protagonista per questo incontro e per gli ultimi due che ci saranno domani è il mondo della musica. E non potevamo iniziare in maniera migliore se non con la cantautrice Malika Ianne, che ha all'attivo sei album, cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, quattro dischi di platino e un disco d'oro. Ciao Malika e benvenuta a Cartmoo Forum Plus. Ciao, buonasera, buonasera. Per fortuna all'attivo ci sono un sacco di cose che non si possono sintetizzare con i numeri e che sono quelle che permettono di partecipare a eventi come questo. Quindi grazie mille di avermi invitata. Grazie a te davvero, siamo veramente felici che tu abbia accettato il nostro invito. Prima di iniziare, innanzitutto ti lascio i saluti del sindaco di San Antonio Di Piave, Andrea Celesare, che purtroppo per impegni istituzionali non è potuto essere qui. Però ti lascio i saluti del direttore del Giffoni San Antonio Experience, Vincenzo Sabellico, a cui lascio la parola. Prego, direttore. Buonasera a tutti, grazie Rossi. È un vero piacere avere questa sera con noi Malika e Anna, che ringrazio davvero di cuore per la sua grande disponibilità. Il format di cui è ospite nasce da un'idea interamente sviluppata dai giovani, i quali, pur provenendo da percorsi ed esperienze diverse, mostrano tutti la stessa voglia di essere protagonisti della loro vita. In questi mesi, in Carto e Forum, come diceva prima Rossi, noi abbiamo toccato, anzi i ragazzi, hanno sviluppato diverse tematiche, diversi argomenti che fanno parte poi della vita e del mondo di ciascuno di noi, di ciascuna ragazza e di ciascun ragazzo. Questa sera, per le giornate che seguiranno, parleremo di musica. La musica in effetti accompagna da sempre la storia personale di ciascuno di noi, caratterizza i momenti più belli, quelli non belli, anche quelli purtroppo drammatici, come quelli della pandemia. A parlarne, oggi i ragazzi hanno chiamato, avete chiamato ragazzi, una delle maggiori interpreti della musica italiana e non solo italiana, che peraltro io amo tantissimo. Ecco, la ringrazio ancora una volta della sua importante presenza qui tra noi. Passo di nuovo la parola a Rossi e buona serata a tutti. Grazie mille, direttore. Riccardo, direi che possiamo iniziare con l'incontro. Allora, Manica, iniziamo. Non so se tu hai visto il nostro logo, che è formato dal vecchio gioco del telefono senza fili, due barattoli con il filo. Esatto. Noi abbiamo proprio voluto un logo del genere, perché con questi incontri vogliamo sentirci meglio, sia a livello emotivo, ma anche a livello di connessione e di informazione. E quindi abbiamo creato una sorta di tradizione tra i nostri ospiti, cioè il filo diretto. In pratica ogni ospite chiede all'ospite successivo, gli fa una domanda sull'ambito dell'ospite successivo, su un argomento di cui magari non sente tanto parlare o vorrebbe avere maggiori informazioni. E Wally ne ha lasciata una per te. Antonio, vai. Siccome si parla di comunicare attraverso l'arte in maniera autobiografica, sarebbe interessante sapere quanto c'è di autobiografico in ciò che lei canta, o quanto invece è inventato, o quanto invece semplicemente è una sensazione che lei ha, o quanto invece è solo la voglia di rappresentare un'emozione in generale. È una cosa che in realtà mi interessa sempre, chiedere agli artisti, speciali musicali. È una domanda molto interessante, davvero interessante, che cioè si tende a fare poco perché si dà sempre per scontato tutto senza poi dare per scontato niente, quindi tante volte rimangono sempre come congelati le tematiche dei testi, delle canzoni. Nel mio caso penso che occorra una percentuale variabile di ognuna delle possibilità che lei ha incato Wally, ovvero bisogna senz'altro avere un po' di esperienza personale, perché senza esperienza personale non è possibile trasformare un concetto universale letto nei libri, visto nei film, visto nei bar, senza poterlo comprendere completamente. Non è possibile senza una propria sperimentazione poter raccontare quello che si vede. Contemporaneamente trovo che laddove c'è un eccesso di immedesimazione, quindi di autobiografia, si finisce con il perdersi via, quindi anche con non riuscire a essere sufficientemente universali come una canzone, ma non solo una canzone, è proprio un'opera e in generale richiede. Cioè quando scrivo, adoro provare a mettermi nei panni di quello che voglio raccontare, ma tenendo la maniglia in caso di necessità a tirare, e quindi salvarmi un attimo prima che rischi di essere troppo. E in questo posso dire che aiuta anche molto a lavorare con altre persone, quindi mescolare i punti di vista, perché la cosa sia più realistica possibile, ma è personale senza essere troppo, troppo, troppo personale. Perfetto. Allora, volevo sapere da te, soprattutto della tua esperienza di Sanremo 2021. È stato ovviamente un festival inusuale e si è detto e ridetto questo aspetto. In particolare, questo Sanremo ha portato alla luce svariati temi, anche introspettivi, nelle canzoni che sono state portate. Nella tua canzone, ti piace così? Per una parte, vabbè, tralasciando il mio gusto personale, che effettivamente divento troppo di parte, però la tua canzone emana positività e una carica, soprattutto nell'accettarsi di vivere pienamente la vita, che è un messaggio che, secondo me, soprattutto in questo periodo è necessario, perché molte volte si tende ad essere anche un po' troppo severi con se stessi. Cosa ti ha spinto a scrivere questa canzone e quanto di soggettivo c'è in essa? Allora, prima di tutto vorrei dirti che sì, la severità per se ne stessi. Allora, diciamo che ci sono persone che ne sono esageratamente cariche e io sono una di queste, cioè sono un'autobastonatrice incredibile. Poi ci sono persone che sono completamente libere, ma anche soltanto da un minimo senso di autocritica. E il fatto di essere, cioè il tuo essere molto severa, non è direttamente proporzionale all'autocritica che molti altri avranno verso di sé. Quindi tante volte ci si perde moltissimo tempo. Quindi questa è la parentesi all'auto, per cui sì, serve intelligenza, sì, autocoscienza, il mettersi in discussione, ma bisogna anche darsi tregua. Questa è l'unica cosa che mi sento di poter dire. Cioè se qualcuno mi chiedesse veramente un consiglio utile rispetto a quello che posso dare. Per quello che riguarda la scrittura di Ti piace così, la cosa che trovo paradossale è stato l'arrivo di questa idea prima della pandemia, un attimo prima che ci chiudessero dentro, più o meno un paio di settimane prima, in cui io tornavo da una serie di giri tra Parigi e Berlino, dove passo più tempo possibile, appena possibile, e mi sono trovata a una di quelle cene che indipendentemente dal lavoro che fai, il direttore secondo me sa quanto me, quante cene si va in cui si preferirebbe stare a casa probabilmente con una tazza di brodo, ma era talmente brutta quella situazione in cui mi sono trovata a rendermi conto che se ci fosse stata io o ci fosse stato un cartonato di Kevin Bacon, non sarebbe cambiato niente. Era soltanto l'idea di poter raccontare, di essere a cena con qualcuno di cui si potesse raccontare qualcosa in quanto tale, non per quello che aveva da dare. E quindi mi sono sentita, e sarà che avevo appena compiuto 36 anni, mi sono accorta che stavo perdendo il mio tempo e che il tempo lentamente, anzi molto velocemente, inizia a scherseggiare nella vita e che quindi non avevo più voglia di trovarmi in una situazione così. E mi sono chiesta perché ci fosse finita e torniamo al punto di partenza della domanda, ovvero la mia severità, il fatto di non sentire mai a sufficienza il fatto di meritare di essere in un contesto. Quindi invece di pensare quanto mi aggradasse o meno la situazione, mi ci sono lanciata per aderire a una cosa che tutto sommato non solo non mi piaceva, ma non era neanche abbastanza interessante. E quindi lì mi sono detta che forse è l'unica cosa che posso fare da persone adulte è consigliare alle persone di perdere meno tempo possibile dietro la secondaria dei contesti in cui tutto sommato non è necessario stare, non è come la scuola quando hai 15 anni, che magari ti annoiano, è importante. Grazie Marika. Allora io vado un attimo un po' indietro nel tempo proprio a migliaia di anni fa. Prendo una citazione di Platone. Platone ci diceva che la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. E quindi prendendo questa citazione ti vorrei chiedere quanto le tue canzoni ti hanno aiutato a curare le ferite che la vita ti ha inflitto? Ma che bella domanda! Cioè penso non solo le mie canzoni, penso che proprio l'atto del fare musica sia in qualche modo potremmo girarla dal lato opposto e mi ritengo molto fortunata d'aver trovato un modo nella vita per poter esprimere e sfogare quello che sentivo. Quindi anche il malessere e non solo il benessere come hai detto proprio giustamente nella domanda però contemporaneamente non solo il malessere ma anche il benessere. Ho semplicemente imparato una lingua e devo dire che chi riesce a trovare un canale di espressione è veramente fortunato e io sono stata fortunatissima perché l'ho capito da bambina e quindi in qualche modo tutte le mie tempeste emotive hanno sempre trovato un porto sicuro o una stampella per essere attraversate. Quindi la musica è fondamentale ma non solo quando la si fa ma anche quando la si ascolta. si tratta di permettere alla propria interiorità di avere sfogo e tante persone non hanno questa fortuna vivono implose vivono con magari una grande paura anche di manifestare quello che provano e altro augurio che porgo verso chiunque è il tentativo di non avere paura delle proprie emozioni e la musica in questo è la migliore alleata possibile. Va questo sicuro ma è stato anche tantissimo durante la pandemia un po' per tutti. Sì sì. Quello che hai detto mi ha fatto venire in mente una canzone di Bruno Risas che è Canzone contro la paura quando dice nella parte finale che a volte basta una canzone per ricordarti chi sei e questo mi ha collegato tanto a quello che hai detto perché appunto proprio la musica aiuta tanto cioè a volte può avere anche una diciamo può sembrare anche un po' diciamo può essere sminuita ma in realtà fa tanto quindi appunto sia scrivere che magari ascoltare come hai detto aiuta tantissimo soprattutto appunto come diceva Riccardo in questo periodo di pandemia dove appunto l'abbiamo avuta un po' come compagna cioè io per esempio ho ascoltato tantissimo musica dalla mattina alla sera perché mi accompagnava tantissimo e penso che questo sia un po' un minimo comune in multiplo di tutti cioè tutti hanno fatto hanno fatto questo quindi Riccardo ti do la parola che ti ho tolto perché mi è venuta in mente la canzone ma tranquilla Rosy ho visto cioè allora Claudia ci scrive sto vedendo un attimo la chat Claudia ci scrive secondo me l'arte in generale e certamente anche la musica come espressione artistica aiutano a esprimere noi stessi do ragione questo assolutamente ma non solo esprimere noi stessi ma anche a raccontarci perché una cosa che trovo meravigliosa è proprio come tante cose che non sono state raccontate da noi nella vita possano però raccontarci meglio di come potremmo fare noi stessi e quindi mi piace l'idea quello che ci insegnano sia l'arte che la musica perché è quella che conosco meglio di forma artistica ma di come non sia necessario essere il centro della cosa che possiamo goderne senza necessariamente averlo creato a nostra volta e questo è forse qualcosa di inspiegabile forse neanche i filosofi sono riusciti a spiegarlo abbastanza bene proprio perché non è verbalizzabile non è razionalizzabile è strepitoso quindi la curiosità penso che salverà tutti quanti anche quando il mondo sarà sommerso le opere d'arte non è probabilmente saranno fluttuanti quella è nella visione tragica che ho spesso tipo Blade Runner eccetera e lì però quell'emozione sarà l'unica cosa non tangibile ma che ci potrà tenere in piedi e quindi è viva meno male meno male sennò saremmo come saremmo dei robot favolosi io adesso chiamo un ragazzo iniziamo anche un po' con le domande dei ragazzi allora c'era Daniele Daniele ci sei per la tua domanda non lo non lo vedo vabbè te la dico io hai le sue vici magari faccio io allora Daniele ti chiedeva come pensi possa svilupparsi il settore della musica a seguito di questa pandemia ah bellissimo 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 allora secondo me è una cosa straordinaria c'è una possibilità reale che abbiamo e ne sono sempre più convinta mano a mano che incontro ragazzi della vostra generazione e addirittura quelli anche più giovani bisogna tornare a un'autenticità perché sì bello avere le possibilità tutti avete capito che se volete potete fare un disco a casa vostra potete contattare artisti con agende fitte con grandi popolari ed avete capito che le possibilità esistono penso che vi sia anche chiaro e qua torniamo sempre a citofonare i rosi sul discorso del mettersi un attimo in discussione farsi un esame di coscienza sulla qualità delle proprie cose e penso che abbiate anche capito molto bene che occorre una conoscenza e una qualità di quello che si fa e quindi io trovo e quindi io trovo che la musica ritornerà un po' come è stato nel secolo scorso così fare il suo corso per cui sì la leggerezza ma anche una certa solidità nelle cose tutti abbiamo voglia di divertirci ma penso che nessuno abbia più voglia di farlo in modo sconsiderato e di scapito di chi gli sta intorno o perlomeno voglio pensare a chi farà l'artista nel prossimo futuro o il presunto tale penso che ripartirà proprio da una qualità di fondo da un nucleo in cui proprio perché abbiamo accesso a meno cose che davamo per scontate posta la liquidità eccetera eccetera ci affezioniamo con più scetticismo e proprio perché le nostre emozioni sono preziose quindi non vanno più sprecate e quindi secondo me torneremo a un picco di qualità incredibile e sarà bello cioè essere un attimo colti non sarà più una parolaccia ragazzi forse a un certo punto questa è la visione ottimista nel pessimismo dico vediamo 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 ma ci spero grazie mille della risposta e vabbè auguriamo a Daniele di vedere il video che poi caricheremo così vedrà la tua risposta che hai dato alla sua domanda e allora io partirei con l'aiuto della splendida regia a mandare un sondaggio che è la novità di questa edizione di Cartoon Forum Plus noi facciamo dei sondaggi ai quali rispondono i ragazzi e poi in base alle risposte diciamo vediamo un po' di commentare insomma le risposte che danno ecco ragazzi se volete potete mandare ok poiché noi abbracciamo un po' di generazioni insomma vogliamo fare un un sondaggio proprio sul su come i ragazzi diciamo avviscono della musica sia tramite cd o comunque piattaforme digitali la prima domanda è hai mai ascoltato musica da un cd che può sembrare un po' banale ma in verità se si prende diciamo le nuove generazioni non diventa banale come domanda proprio perché c'è appunto questo cambio l'evoluzione della musica in un certo senso di come le persone ascoltano la musica e la seconda è secondo me nel 2020 sono stati venduti più cd o vinili proprio perché abbiamo visto un dato che è recente quindi del del 2020 ed è curioso vedere la diciamo la risposta sarà molto molto curiosa da commentare e la terza è ad oggi acquisti cd dei tuoi artisti preferiti o ti limiti a scaricare gli album da piattaforme digitali proprio perché appunto con l'utilizzo diciamo delle questo abuso delle piattaforme digitali forse era curioso vedere appunto se c'è ancora l'utilizzo del cd o comunque si utilizzano di più le piattaforme digitali attendiamo un attimo le risposte così le possiamo le possiamo commentare ok va bene felice di leggere la prima risposta cento per cento ascoltato musica da un cd secondo me nel 2020 sono diventati più cd o vinili il 79% risposte vinili ed esatto perché la non si è diciamo proprio nel 2020 l'acquisto dei cd è cresciuto del 100% quindi è 120% e quindi diciamo c'è stato un boom di acquisto dei vinili che non si vedeva da più di dieci anni e ad oggi acquisti cd dei tuoi artisti preferiti diciamo ascoltò solo sulle piattaforme digitali quindi diciamo che si utilizzano ancora di più le piattaforme digitali a discapito dei cd tu diciamo vedendo queste risposte cosa ti senti di commentare Malika? beh mi sembra allora una cosa che mi inquieta sempre molto perché si parla spesso di nuove generazioni però la verità è che i peggiori pigri sono anche quelli più grandi di me quindi gli ultra quarantenni che molto spesso nelle loro case non hanno un impianto per ascoltare musica e dato che sono anche quelli che insegnano ai bambini no? perché oggi sono la generazione dei genitori non mi stupisce che ci sia un cioè se vogliamo da parte dei giovanissimi un arrangiarsi no? perché la musica se la procurano così non hanno neanche idea di come funzionano certi strumenti tecnologici dall'altra insomma mi fa sorridere quando quando poi cioè si pensa come viene considerata la musica in generale e un po' mi spaventa sono molto contenta del ritorno del vinile però vabbè appunto casa mia non fa testo e anche se in macchina ancora cioè io ascolto tanto la musica dalle varie piattaforme e cioè ce ne ho alcune preferite rispetto alla qualità d'audio e anche per il discorso del contributivo ma non siamo qua a parlare di questo e anche perché soprattutto nel lettore CD della mia auto c'è bloccato un album dei public enemy da circa due anni per fortuna il disco è bellissimo uno di quelli che quando devo guidare mi carica e divento diciamo che è una macchina del traffico però sono molto contenta che il vinile torni e conferma in qualche modo quello che vi dicevo poco fa al mio sentore in cui proprio la musica torna ad essere un momento molto molto personale per cui è bello possederlo anche nel migliore delle accezioni possibili nella migliore ok allora continuiamo con le domande dei ragazzi ora c'è Pietro ciao ciao Riccardo ciao Malika ciao vorremmo collegarmi anche un po' a questo a questi ultimi sondaggi ecco sul sul concetto di supporto ecco c'è la storia della musica la storia della tecnologia vanno spesso da pari passo quindi ad esempio il 45 Giro ha fatto nascere il singolo tramite l'LP è nato il concetto di concept album quindi il CD si è andati avanti indietro ora con le piattaforme digitali c'è uno spazio illimitato non volendo ma l'album è molto più ai reforme si commenta spesso che si va avanti per singoli e spesso sono anche un po' delle scuse tra molte virgolette per impostare tour e quindi altri momenti di musica che probabilmente creano anche più guadagni più indotto ecco volevo chiederti ecco un po' sceglota passatismo perché nel senso non vorrei mai sentire quello che dice che si stava meglio quando si stava peggio ma personalmente ti senti a tuo agio a fare musica in questo periodo ecco con questi concetti di album molto più ai riformi magari l'importanza del singolo che comunque c'è sempre stata o avresti potuto realizzare cioè potendo scegliere avresti potuto vivere un po' altri periodi storici altri concetti di musica di commercio musicale grazie allora grazie intanto per la domanda che è molto interessante e allora al di là del rischio di cascare in una cosa tipo quella di quel film di Woody Allen di Midnight in Paris in cui iniziamo a guardare indietro ed è sempre bello devo dire che da una parte sono molto contenta di non dovermi confrontare che ne so con Grace Jones o con delle artiste di cui non potrei neanche mettere a posto la sedia se volessi ma sai io ho la fortuna di essere abbastanza sognatrice e abbastanza entusiasta di quello che mi succede e di non aver mai perso lo stesso spirito dal primo disco per cui io penso a fare gli album le canzoni fini a se stesse mi piacciono tantissimo magari escono però mi piace sempre che ci sia un contesto più ampio quindi io sono una di quelle che è un po' di coccio e quindi non la capisce la la necessità di tirare fuori dei singoli super hit secondo me un album quasi dovrebbe venire dopo una lunga tournée e quest'anno è stato molto complicato pensare di poter realizzare una cosa del genere però il tour il palco è il posto ancora migliore secondo me dove dare spazio alla musica tranne quando si fanno dei lavori proprio di produzione certosina dove quindi lo studio è il posto più adatto però ecco cioè io vado avanti ostinata anche perché gli artisti che poi ascolto di più della scena contemporanea sono quelli che magari non hanno dei numeri che che fanno parlare di loro come delle grandi star però hanno pubblico in tutto il mondo e io onestamente ci metterei la firma ad avere che ne so duemila persone per stato e passare la mia vita a viaggiare da un paese all'altro e no senza lo stress anche di di dover tenere dei numeri di un certo tipo quindi penso che l'importante tutto sommato sia riuscire a suonare la propria musica nel nel modo più vicino a quello che uno immaginerebbe e poi ecco c'è c'è Springsteen che è più in forma che mai in maledizione c'è l'età dei miei genitori ed è lì che non accenna voler andare in pensione quindi finché c'è lui anche volendo è irrimpiazzabile grazie grazie ora abbiamo Antonio ciao Marika grazie per essere qui con noi la mia domanda è questa mi è venuta in mente dopo un pensiero che ho fatto cioè da poco è venuta a mancare viva che è stata una grande cantante è stata una cantante molto eclettica importante anche nell'ambito del teatro e con la sua voce e la sua eleganza ha segnato insomma il panorama musicale italiano quindi come lei tante artiste e tante artisti hanno caratterizzato l'epoca e ancora oggi vengono ricordati ti volevo chiedere quali sono stati i tuoi cantanti o le tue cantanti che hanno definito il tuo stile e chi ti hanno ispirato o chi ti ispirano ancora grazie grazie mille dunque diciamo che io sono un amante delle biografie oltre che dei dischi perché poi penso che inevitabilmente quello che ascoltiamo si riflette un po' su di noi ma non penso di aver mai fatto un lavoro di non tanto di emulazione quanto di avvicinamento musicale e diciamo che il fatto di aver studiato la musica classica mi ha permesso di avvicinarmi all'interpretazione musicale in un modo che era già anacronistico quando ho iniziato a studiare e i primi dischi che ho comprato sono stati ricordo con Amore Folle uno dei migliori gesti di amore fraterno da parte di mia sorella quando mi regalò Blue Valentine di Tom Waits per Natale ed ero piccolina andavo ancora alle medie per cui penso che tipo quel colore cioè quel modo di sentire le emozioni sia sempre stato importante per me infatti Billie Holiday la Joplin Bowie penso a Leonard Cohen a Johnny Mitchell sono tutti artisti che in un qualche modo non era per la loro virtù tecnica che mi facevano impazzire ma per il loro modo di sperimentare con il loro sentire che in un modo che nell'altro lo stesso Brianino quando commentiamo rispetto a il suo essere un grande avanguardista nei suoi lavori si sente come come in realtà il suo no il suo dolore fisico anche no fosse stato il motore generante della sua rivoluzione musicale quindi questa cosa dell'andare a scavare nelle anime è sempre stato secondo me proprio un faro un faro poi io vabbè ho adorato tutti i classici perché sono fondamentali quindi consiglio se non l'avete ancora scavato bene ascoltatevi di Andrè che era avanti a suo modo anche nella scelta dei suoni e le tematiche riusciva ad arrivare così come Milva oggi è bellissimo che ne parlino tutti ma lei la dimostrazione come se potesse essere sempre fuori moda da una parte ma avanti perché l'ha fatto la sua storia e quindi è bello cioè se avete del tempo da perdere tanto insomma siamo sempre fin troppo chiusi in casa date un occhio alle biografie di questi artisti che hanno avuto dei momenti di down così importanti che hanno permesso di avere queste opere cioè tutte le loro opere meravigliose diffidate dai degli eterni vincenti grazie davvero della risposta che è giusto ricordare proprio degli artisti anche se a volte è un po' triste che vengano ricordati che salgano un po' alla gloria che magari meditavano diciamo quando purtroppo non ci sono più cioè dopo la loro praticamente di partita però è bello appunto che persone come te che ricordino ancora consiglino di ascoltare questi artisti perché sono facevano hanno fatto la storia e continuano a farla e proprio per questo li rende li rende eterni e mi collego un po' posso aggiungere una cosa scusami certo volevo dire che la gloria è un po' sopravvalutata secondo me cioè la cosa importante è nel momento in cui ed è inevitabile me lo insegnò Francesco De Gregori che quando tutto sta andando bene è una casualità cioè è più un incidente di percorso perché non c'è carriera non c'è vita che non sia fatta no? di questa parabola che continua a salire e scendere e quindi il punto è che in ogni fase di queste parabole la cosa più importante è essere alla ricerca di quello che si vuole fare no? di un lavoro di qualità perché poi il lavoro ci resiste noi moriremo tutti ma cioè se siamo fortunati 50 anni dopo di noi uno può sentire può andare a cercare quello che noi abbiamo fatto e se anche nel nostro momento più di basso impatto popolare comunque c'era un valore io sono sicura che in quel preciso istante qualcuno gli avrà dato anche il valore opportuno e il valore non si calcola mai sulla quantità delle persone che apprezzano un lavoro preciso poi ovviamente siamo tutti più contenti se a un concerto ne vedi 10.000 e non 700 però ciò non toglie la qualità del lavoro stesso quindi pensare alla qualità di quello che si fa l'autenticità di quello che si fa è l'unica cosa che conta poi almeno quando moriremo non diranno ha fatto anche quella cagata no? diranno ha fatto queste cose clamorose ecco grazie di questa aggiunta veramente quando vuoi puoi interrompermi scusa puoi fare no puoi puoi tranquillamente per me puoi è tuo puoi fare quello che puoi veramente allora collegandomi un po' diciamo alla tua carriera che è stata è ovviamente degna di nota io sono una fan dei musical io li adoro sensualmente e tu sei stata la protagonista del musical di vita interpretando Eva Peronio che è un personaggio forte nonostante le sue fragilità ti voglio chiedere come è stata appunto l'esperienza che è diversa diciamo dal concerto dal tour diciamo com'è puzzata appunto l'esperienza del musical e quanto di Eva è diventato tuo e quanto di te hai dato nell'interpretazione di Eva grazie mille della domanda allora fare vita è stata la cosa più faticosa che abbia mai fatto nella vita perché tra l'altro è tra i musical il più impegnativo per le donne tanto che pare che Weber avesse scritto composto la parte della protagonista con la precisa intenzione di rendere la vita difficile perché pare che lui è la prima attrice che ha interpretato quel ruolo fossero fidanzati e l'era lasciata per il paroliere quindi c'era anche del dramma nel backstage di tutta la faccenda quindi erano due ore e mezza l'unica scena in cui non c'era quella in cui stavo morendo e dovevo cambiare la parrucca quindi c'era la controfigura però due ore e mezza sempre in scena per 70 giorni di fila è stata una roba veramente spaventosa in più c'era questo scetticismo tipico di chi non arriva dal musical per cui tutti i grandi fan del musical è arrivata e questa fa il pop e non è capace e con tutte le ragazze che studiano in accademia arriva lei solo perché è raccomandata e famosa quindi in più la signora però una donna straordinaria di cui mi sono letta tutti i libri possibili cioè lei talmente importante ed emblematica e faticosa da gestire che anche da morte era un problema tanto che hanno dovuto fare un calco del suo cioè del suo cadavere una copia di cera che serviva a depistare i suoi sabotatori che volevano farla sparire quindi cioè capisce che è anche stata non è anche da morte tanto che per un periodo è stata al cimitero maggiore qua a Milano con un'identità falsa e insomma ed è un leader spirituale di una nazione quindi ti fa capire quanto insomma uno deve partire schiscissimo per arrivare a confrontarsi con un personaggio del genere in più lei è morta a 33 anni e io l'anno in cui ho fatta vita dovevo compiere 33 anni per cui mi chiedevo ma io che cosa ho fatto per confrontarmi con questa donna straordinaria e quindi ecco diciamo che ho solo imparato poi mi hanno fatto vedere delle foto in cui le somigliavo pure quindi mi sono sentita schiacciata e non essendo un'attrice ogni giorno senti morire ogni giorno è stata una cosa morire anche male perché povera donna l'hanno ridotta fino alla fine l'hanno distrutta è stato un modo di capire che c'è sempre un altro quando ci facciamo prendere dall'egocentrismo e quando pensiamo che il mondo finisca con la nostra porta di casa poi in verità c'è sempre qualcosa di molto più grande di noi quindi questa è stata la più grande lezione e poi che appunto è uguale per il pop appena esci dal tuo mondo ce n'è uno ancora più grande e questo mi ha fatto venire una gran voglia di divertirmi ancora di più e questo si riattacca alla domanda precedente a fare a fare per il piacere di dare senso alla possibilità che ho di fare la musica grazie Malika ora abbiamo Marimena ciao Malika grazie per essere qui io volevo chiederti ne hai anche già parlato prima ma comunque volevo chiederti che quando si parla di musica diventa un po' inevitabile fare caso al fatto che ci sono artisti che nonostante il loro talento nel canto nella scrittura di testi non hanno la notorietà che meriterebbero e secondo te questo da cosa è dovuto e perché insomma succede che alcuni artisti vengono messi in un angolo se così si può dire grazie mille grazie mille a te è una bella domanda sicuramente un po' c'è il fattore sfiga che non è da sottovalutare cioè proprio il fatto di essere nel posto giusto al momento giusto è importante la storia è bellissimo guarda quando vai a leggere le biografie ti rendi conto che è molto una questione di tempismo un esempio che mi piace sempre fare è quello di Frank Sinatra che un giorno vede passare un gruppo di ragazzine che strillano come no proprio impazienti e lui si accorge che non cercano lui ma che cercano i Beatles semplicemente perché è cambiato un tempo no e nessuno può mettere in dubbio la qualità di cioè con lo swing la rivoluzione fatta dalle grandissime orchestre di cui Sinatra è stato il più grande esponente non si può dire che è più bello o meno bello no di quello che che facevano i Beatles si tratta di due epoche differenti due esigenze diverse due generazioni differenti e quindi questo molto fa il tempismo l'altra cosa è la promozione non è sbagliato pensare e a volte è un po' triste però è una scommessa che se tu continui a insistere con le persone che una cosa è bellissima cioè quindi fai in modo che loro la trovino sulla loro strada allora a un certo punto sia facile che la metabolizzino e si convincano che sia esattamente quello di cui avevano bisogno e questo insomma il marketing voi siete molto più sul pezzo di me sono sicura anche per l'età che avete sugli studi nuovi che vengono fatti in proposito e ecco perché è ancora molto importante avere un'etichetta o un bravo ufficio stampa o qualcuno che ci tenga per un motivo o per l'altro che molto spesso è proprio mecenatismo o il credere in un progetto in altri casi è puramente una questione di business che poi per carità nessuno vuole sentire i suoi dischi a casa e dire oh quanto sono bravo tutti vogliamo vedere trasformare in qualcosa anche di nella nostra vita nel nostro lavoro nella nostra passione quindi purtroppo dipende da un sacco di cose e in alcuni casi c'è un altro tipo di sfortuna che è quello per cui esce qualcosa di estremamente non simile ma paragonabile che ne so due artisti femminili quando io usci con il mio primo singolo Giusy Ferreri aveva appena pubblicato il suo primo disco non usciva una donna da cinque anni da dieci anni e lei aveva una voce particolare io avevo una voce particolare il fatto che lei fosse avesse suonato anche su Marte quell'anno ha venduto le ultime copie tante mila copie della musica italiana le ha vendute lei e allora dicono no ce n'è già una cioè pubblico medio non parliamo di massa quindi non di appassionati per cui dice ok quella è la voce strana questa è la voce strana ma se io ce n'ho già una non me ne faccio niente dell'altra quindi è proprio a volte c'è da mangiarsi le mani e dire quello che non dipende da me non lo posso cambiare e poi torniamo sempre lì il successo è sopravvalutato cosa vuol dire il successo grazie Marika allora ora vorrei un po' affrontare anche la parte la tua parte di autrice tu sei cantautrice quindi canti ma scrivi anche le canzoni e quindi adesso aiutandomi un po' con i partecipanti apriamo un attimo un sondaggio con cinque canzoni che sono state due canzoni sia a livello di cantante che a livello di autrice e chiediamo ai ragazzi le abbiamo scelte io e Rosy queste cinque adesso ve le ed è stata bella la scelta perché abbiamo sentito tutte le tue canzoni è stato bello era un momento che tocca anche ogni volta qui abbiamo messo le nostre preferite che bello ce ne siamo ce ne siamo li abbiamo un po' scelte quindi vorremmo chiedere un po' ai ragazzi a farci aiutare dai ragazzi visto che non sapevamo non riuscivamo a sceglierne solo una e quindi ci facciamo aiutare dai ragazzi per chiederti un po' come viene scritta una canzone anche in riferimento a quella che i ragazzi sceglieranno e come si scrive una canzone quali sono i vari step come nasce l'idea allora la cosa interessante proprio partendo da questi brani è che sono tutte storie diverse no? proprio come come scrittura e la cosa interessante è che non c'è un metodo e io adoro che non ci sia un metodo allora poi ci sono miei amici e colleghi che sono estremamente più metodici e io li invidio un pochino perché si svegliano si mettono magari si chiudono veramente per due mesi e non fanno altro e tu vai ogni tanto a rivedere come stanno se sono vivi ed è ed è curioso allora potremmo raccontare una cosa cioè allora diciamo che senza fare sul serio e tempesta hanno in comune il fatto che appartengono a un ciclo di brani che sono stati i primi in cui cioè con questo approccio per cui c'eravamo io e il Pacifico chiusi dentro una stanza dentro il suo studietto che è posto bellissima a Parigi ma potremmo essere ovunque perché le finestre guardano un altro palazzo quindi il tempo passa in modo stranissimo ed eravamo nel nel pieno loop della scrittura sull'importanza di dare senso all'attimo era il primo disco sull'importanza dell'attimo e che lo scuso mentre Tre Cose nasceva da una ah che bello senza fare sul serio adoro no ma continua pure se vuoi con Tre Cose no vai sì Tre Cose era la mia tazzola bene bene che Tre Cose invece arriva da un'idea di Alessandro Reina che in quel momento era c'è ancora l'Indy non era era prima dell'anticamera dell'Indy Alessandro aveva è stato uno dei primi a tirare fuori quelle che sono le canzoncine che una volta avremmo chiamato da spiaggia e e da quella siamo partiti per cui lì è arrivato un tipo di canzone più o meno già scritta e su cui il mio lavoro di scrittura è stato arricchire dal punto di vista musicale aumentare diciamo il dato di complessità quindi costruire tutta un'altra melodia su una terza sopra quindi mettere due voci cioè usare già il meccanismo di produzione tanto che nel live è importante che venga suonata con una certa intensità di arrangiamento altrimenti rischia di cadere perché senza spensieratezza e senza sguatezza quella canzone non può stare in piedi quindi è un tipo di scrittura che serve al tenere suo a dare fondamenta e mattoni mattoni ricomincio da qui invece è il perfetto contrario bisogna rendere leggibile una cosa che rischia di essere troppo complicata e e lì mi era arrivato un tema su un tempo dispari e su cui la cosa è stata difficile ma super naturale dello scrivere io lì mi sono occupata del testo e sulla musica di Ferdinand Ornò ed era proprio cercare di stemperare stemperare perché è una di quelle canzoni che altrimenti non possono parlare a nessuno e mentre il tempo non inganna è stato cioè voleva essere un po' lo stornello quindi mi hanno cercato di 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 prendere la la modalità sbracona per dirlo con un termine scientifico e anche quello portarla in una in una quotidianità possibile chiaramente io mi prendo anche in giro da sola perché il mio tipo di linguaggio sia musicale che verbale a volte cioè sembra del 1700 anzi Pacifico dice che sembra venuta da Topolinia per per certe cose quindi quindi è interessante anche così e però ecco senza fare sul serie è stato bellissimo una delle cose più divertenti che abbiamo mai fatto e abbiamo fatto l'elenco di tipologia di persone che comunque la metti non stanno vivendo no cioè non sono esattamente nell'istante che stanno vivendo quindi per una caratteristica per un'altra per un'abitudine che poi siamo tutti noi no troppo facile sempre predicare di essere presenti ma cioè non so voi ma la capacità di distrarmi anche mentre mentre sono ferma quindi è stato meraviglioso abbiamo iniziato a fare gli elenchi ci siamo divertiti tantissimo quando sono arrivata la frase come vorrei saper guardare indietro senza fare sul serio lì è stata grazie a dire all'ora di aperitivo abbiamo aperto lo champagne abbiamo festeggiato questa grande conquista perché lì sembrava proprio il coro dello stadio con tanto di mano senza fare sul serio cioè proprio che diventa sia una liberazione che quasi una minaccia come vorrei alleggerirsi alleggerirsi per sé perché un po' si sentiva che era il momento in cui o diventi appunto Bruce Springsteen o pare che tu non abbia motivo di esserci e un po' io spero che questo nuovo presente ci riporti a guardare la sostanza delle cose non un'ambizione che poi tutto sommato con noi non ha completamente a che fare ecco grazie davvero grazie mille della risposta vai Riccardo grazie Malika allora ora chiamiamo Emma sì allora ciao la mia domanda è ci sono argomenti che non hai trattato nelle tue canzoni che ti piacerebbe affrontare? ma no nel senso che gli argomenti che non tratto a parte che vabbè io sono un po' ossessiva mi piace raccontare le persone quello che sentono no? magari senza dare ricette di grandi felicità o risposte come se fossi l'oracolo perché grazie al cielo non lo sono però mi piace pensare che tutto quello di cui ancora non ho scritto è perché o non lo conosco ancora bene o ne scriverò ecco perché se no tutto il resto quello che mi sento di essere in grado di affrontare per fortuna mi sono tolta il mio sfizio grazie allora siamo arrivati ormai alla conclusione di questo bellissimo incontro e come all'inizio Walli ti ha lasciato una domanda ora noi ti chiediamo di lasciare te una domanda al prossimo ospite domani alle 18 avremo Orietta Berti beati voi raga oh no Orietta è stupenda che ne farei due domande la prima è di cioè anzi è più una richiesta di insegnarmi a continuare ad ancheggiare sui tacchi vertiginosi anche dopo i 40 perché le ho visto fare cose a Sanremo dove c'è l'ascensore quello sconosciuto e poi l'altra cosa che vorrei chiederle che invece è una cosa che cioè proprio mi incuriosisce tanto è come si fa a rimanere intatti cioè diversamente gli stessi in tutti questi anni e quindi a resistere a questa a questa serie di onde che vado proclamando con tanto con tanto entusiasmo un conto no è vederle un conto è viverle l'è ancora qui da un sacco di anni e quindi come c'è riuscita sarebbe un'ottima cioè come c'è riuscita sarebbe molto bello saperlo quindi come ce l'hai fatto Rietta insegnalo anche a noi grazie Malika comunque l'incontro aperto se vuoi venire noi ci siamo a domani per fortuna sono di nuovo su un set finalmente ragazzi mi mancava tanto finalmente giriamo un video sono felice però vi ringrazio siamo felice noi per te no non vediamo l'ora di farle di farle vedere la domanda che le hai che le hai fatto io purtroppo a malincuore devo dire che siamo giunti alla fine alla fine di questo incontro e io ringrazio veramente Malika ti ringrazio davvero perché sei stata disponibilissima e gentilissima e credo che a tutti sia sia piaciuto questo incontro e veramente ti ringrazio tantissimo soprattutto perché hai dato tanti spunti di riflessione e davvero spero che tu abbia passato una bella ora è stato stupendo ragazzi grazie perché proprio imparo sempre grazie di essere una ventata di speranza o meglio io mi piace la speranza è bellissima però siete più un augurio che la speranza perché è sottile la differenza ma molto importante quindi vedervi così attivi così interessati a fare cose costruirle mi fa pensare che meno male che mi pagherete la pensione ragazzi grazie grazie veramente Malika io ringrazio Riccardo che è stato il mio fedele compagno in questo incontro grazie Malika ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e io ricordo gli appuntamenti ahimè gli ultimi due appuntamenti di domani avremmo alle diciotto Orietta Berti e alle diciannove la rappresentante di vista io vi ringrazio davvero di essere stati con noi in questo incontro ringrazio rinnovo i miei ringraziamenti a Malika e ci vediamo ai prossimi incontri di Cartoon Forum Plus buona serata a tutti ragazzi buona serata grazie a tutti